Ieri è stata una giornata divertente, insulti e parole contro di me e il mio canale. Forse un segno del successo, chi lo sa, o forse i miei video fanno cagare e non me ne accorgo. Quando ci metti la faccia devi essere pronto a prendere i fischi. Era prevedibile che succedesse ed ero pronto a sentirmi dare contro. In fondo parlo di una categoria nella quale io sono uno dei più giovani, non per esperienza ma per età. Da una parte ho insulti, minacce e provocazioni, dall'altra parte invece ringraziamenti e affetto. I commenti e le parole positive superano di gran lunga le cazzate degli invidiosi, quindi non mi fermo e vado avanti. Sono sempre disponibile per un confronto con le persone che non la pensano come me, perché io lo capisco che non capiate molte delle mie scelte. Se dicessi quello che vorreste sentirvi dire dovrei fare quello che fate voi. Rispondo a tre delle domande o provocazioni che mi sono arrivate. Il primo dice ma questo che sa tutto potete chiedergli che cazzo fa adesso? Ciao Walter, marzo e aprile ho lavorato lo stesso, nonostante l'emergenza coronavirus. Ho lavorato molto meno rispetto ai mesi scorsi, questo è normale, ma credo che sia così per tutti. Il mio lavoro spazia molto, ho clienti privati e clienti azienda. Ho diversi canali dai quali arrivano richieste ancora oggi. A Torino invece come va? Ti ringrazio comunque per l'interessamento. Il secondo dice e dovete vedere su YouTube quanti video ha messo, fa il tuttologo sulla qualunque. È vero, ho pubblicato negli ultimi mesi un centinaio di video, almeno uno al giorno per l'esattezza. Non voglio sembrare un tuttologo, è che ho esperienza in diversi ambiti. Come ho spiegato in altri video, che magari non hai visto, ho aperto la mia partita IVA a 21 anni. Oggi ne ho 34 e ho avuto più società che capelli in testa. Studio molto e spendo tantissimo in istruzione personale. Però giustamente se pensi che io abbia un modo arrogante di affrontare i miei discorsi, mi dispiace. Quello che sto facendo io è istruire nuovi NCC e gli NCC in difficoltà. Tu sicuramente non hai bisogno di me. In ogni caso i miei video sono gratis e puoi decidere di guardarli o meno. Ultima provocazione, questa è bella. Un mago con una macchina ti rimborsa se arrivo a ritardo. Lo devo mandare da un mio cliente che usa spesso il jack privato, così se sgarra gli paga il viaggio. Grande Fabrizio, capisco che sia assurdo proporre una garanzia che non puoi supportare con una piccola azienda. Per fortuna non ho solo un'auto e non arrivo a ritardo. Se avessi di questi problemi, forse mi sparerei come consigliato da un certo Vincenzo. E poi c'è un altro problema, che difficilmente accetto servizi da collaboratori esterni. Il più delle volte sono io quello che passa il servizio agli altri. Lo comprendo che non capiate il mio modo di lavorare e per molti può essere un modo inusuale. Immagina Amazon, che offre il rimborso del prodotto se non ti piace. È assurdo. Zalando con le nuove regole chiede al corriere di aspettare il tempo che il cliente si provi le scarpe prima di andare via. È assurdo anche questo. Ogni società ha la propria idea differenziante. Io ho solo messo in pratica ciò che insegno. Che cos'è per voi la professionalità? Mettere la giacca e la cravatta? Non avete notato che nella maggior parte dei miei video uso la fetta o addirittura una maglietta e la gente mi vuole bene lo stesso? Comunque ve lo ripeto, siete liberi di guardarli o meno i miei video. Non sono in cerca né di fama né di popolarità. Io non dico che il vostro modo di lavorare sia sbagliato. Non ho mai dato conto agli NCC ma neanche ai tassisti. Io non vi conosco personalmente. Spiego solo quello che faccio e come potrebbe funzionare per altre società, magari per nuove società. Comunque ragazzi, io sono aperto al dialogo e vi invito a scrivermi sulla mia email tutto quello che non vi sta bene, senza filtri. Però screditare gli altri non vi farà sembrare migliori, ma sono piccoli 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 piccoli. In ogni caso un bocca al lupo a tutti. Commentate sotto con insulti oppure ringraziamenti. Va bene lo stesso. Grazie.